Ciao qui ragazzi e benvenuti ragazzi sul Catrick Oggi ragazzi appuntamento incredibile In quanto oggi andremo a fare il 2v2 doppio Sì, ritorniamo su Rocket Nella Ranked E come vedete ho messo il cappellino Siccome c'è freddo al mio microfono Perché ragazzi pure i microfoni hanno un cuore, un corpo E sentono freddo Siccome ci sono 4 gradi ho riuscito di mettergli un bel cappellino di lana Lasciando stare le cazzate ragazzi Oggi appuntamento incredibile In quanto ragazzi mi sono fatto le macchine fighissime Abbiamo le macchine quelle precedenti Che avevo fatto vedere tipo nel crate opening di una settimana fa Che è questa gialla, bella, tutta carina, con le lano di Z E questa blu E poi ragazzi Ammirate ragazzi la potenza di questa macchina Con queste rute bianche fantastiche Che sono le Peppermind Cioè quelle di Natale A forma di caramella Come cosa sono quelle? Ve le dico perché non mi ricordo Le Peppermind Sì E poi abbiamo ragazzi la parte gialla Che ho messo le altre ruote che ho trovato Che sono le Wondermind Ragazzi carine dai Andiamo subito in game Ok siamo su Back with Park ragazzi Siamo con Mr. Kirk contro lalalalalalalal Ok vado io Va bene Defendimi Guardate ragazzi Una macchina bellissima bianca Sfumeggiante Kirk vai tu Vai io ti copro in difesa Oh cazzo Non ha boost Kirk ti prego Meno male ragazzi che hanno fatto la cavolata Perché Cioè Era un po' fottuto In quel caso Però 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 Ragazzi sono troppo forte Quindi le cose succedono E quelli forti Allora sei calmo Ok E' bello messare lo boost Vai Ti follow Oh cazzo This is a problem This is a problem T'ho arrivato il boost E pezzo di Meno Eh va dire dai colli Dai colli montuosi Di Gardos Passa sono al centro Ah Perché Detto di merda Eh vabbè Ho letto male l'azione Ho letto male il rimbalzo Leggo male Non so leggere ragazzi Io dovevo attaccare le figurine Cioè non è che devo leggere le libri Cazzo Eh No 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 Non l'ho tirato male No 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 Era una cosa Cioè Per Per non Non fare giquittare i nemici C'è i nemici Gli avversari Vai Kirk Buono Nice pass Great pass My friend Ok ragazzi 2-0 Siamo carichi Imponenti Lo l'lel Stanno sbagliando Defending Ok Quindi vado sempre io Eh Va bene Ok ci sta Ok No volevo spingerlo Prendi Affanculo Ciao palla Vieni con me palla Ok va bene Buono Buono così Va bene Prendiamo aria Vai che Passi Vai che la passi Ehi Guardali Cazzo Giochiamo su FIFA Dobbiamo fare i gol della merda No no Kirk Che è successo Che è successo Che è successo Il mio campione Qua in difesa Certo se ti vedo al cazzo Dopo che hai fatto l'azione Forse Quasi Quasi Vai Va bene Ti stava fottendo Aia Fatto male Eh dai Ma dobbiamo giocare alle ali Ma non dobbiamo fare ste cose A me non vi ho spinto Non vi ho fatto niente Vabbè ma Raga Ma che cazzo di tiro ha fatto 90 km da là È imprendibile Io Me le compiaccio Allora Ciao lol Ok Non ho più boost Ma lol Non lo sa Forse sì Va bene Vai tu Bravo Bravo Amico mio Lo sto fottendo Va bene Era una boost Ah però l'ho spinto Vai tu Vai tu Brother Kirk Siamo calmi Kirk Non ci incazziamo Ragazzi Tranquilli Cioè Tutto calcolato Ah Fottuto Lel Ciao Eh ragazzi Quello è andato troppo offensivo Convinto che il suo amico Gli era passasse Ma si attacca Il cazzo Il suo amico Perché sono troppo forte Comunque Ho fatto un kickoff di merda Mi sono un po' ripreso Alla fine Ti prego Kirk Grande Che affiatamento Signori Oh Kirk No Kirk Che cazzo Fa Kirk Ma di mortacci Tu a Kirk Ma che cazzo Eh Forse si doveva segnare Quello Non lo so Ma è molto difficile Non so Io non ho fatto niente Pamparava No Era chi segnava prima Però ragazzi La prima l'abbiamo vinta Bene tranquilli 4 a 1 Mi sembra Andiamo subito con la seconda Ok ragazzi Siamo in competitive Giustamente Siamo con Schick Contro maestro Siss Come si chiama Quello Schick Schick Io ci provo Ma non ti garantisco niente Ti prego sbaglia Ti prego sbaglia Oh La forza Jedi mentale Ha funzionato Ha mezzo funzionato No 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 Maestro Fatti Calma Eh Ah Proprio ti ritiri Trava in pensione Ha detto Ah Non give a fuck Ok GG Oh il vaglietto Le va a dire al cazzo Merde Io vado a far Gostruzzo No L'avevo visto Che era sparato Allora Non l'ho giunto Vai Oh E che cazzo Ne sapevo Che non la toccavo Mamma mia Difesa 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 Mi dai Mi dai Stiamo per prendere il gollo Dio Che cazzo Dove Schick Ma che cazzo Fai schick Ma la porta Devi difendere La porta Schick Che so Rimani Che cazzo Fai Ma E non lo so Oh Oh No E Nice Oh Cazzo Quella Ha fatto La provata Quasi Need the boost Cosa Sempre ho bisogno Del boost Oh Vai 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 La prende La prende Bellissimo Mamma mia Mamma mia Signori Il goal Fantastico Di raise Good shot Grazie Oh Ragazzo L'hai scritto Ragazzo Scusate ragazzi C'è stata un'invasione Di campo Da parte Di mia madre Ma Eh Purtroppo Si può fare niente Oh Oh Io non mi voglio tagliare niente In quanto questi gameplay Sano molto molto Solidi In quanto Lai Lai Viviani Che cazzo sto dicendo Perché sto volando Che sto facendo Della mia vita In questa partita Ok Maestro Mi hai fatto un po' preoccupare Te lo dico Eeeh Bopin Lol 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 L L Quelli di prima Amico Non ti sento Quindi è inutile Che tu mi parli Cioè Mi puoi dire pure Good shot Di nuovo Ma io non ti sento Perché io la chat vocale Ce l'ho Di po' A meno 150 Ragazzi Ma non c'è nessuno Mi faccio i cazzi miei Dovevo un po' Levare la camera Forse Però forse Vai No maestro Levati dal cavolo Need the boost Come sempre Vabbè No 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 Aiuto Ai Che stronzo Ai 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 Ok Purito Io ben What the fuck Am I doing Perché faccio Steca Volate Ciao Ah 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 Stai calmo Bravo Bravo Maestro Bravo Come cazzo Piff Bluff No Magic ball Please Oh oh Skick ti prego Grandissimo Skick Wow No 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 Oh oh Ok Fuck Ha segnato Oh 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 Nice Aia Cazzo Va bene Va bene Tranquilli Ok Merda Levati Mi te va Gli ando Confondere Non la tocco Non la tocco Non la tocco Non la tocco Ok Alright Ah Non la tocco Tanto è inutile Questa la tocco Dai skick Ah non c'è skick Bi 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 Buongiorno Buongiorno Ah 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 Non le toccato palla E' bello sto boost Ehi No Nice Possiamo fare benissimo Questo Ce l'andiamo così Dribbling No Faccio schifo Dribbling Quindi non va bene Il boost I need the boost No Il mio tripling di me Era goal E vabbè raga GG Due su due ragazzi Siamo troppo forti Mamma mia Che macchina di merda Che è questo Che cazzo di colore Snowflake Break Wow 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 Ragazzi Siamo sempre Di vicino e tre Quattro Divante tre Comunque ragazzi Spero che Have a nice day Ah ma anche tu Grazie Troppo Troppo bravo Grazie Merry Christmas E comunque ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Ho aumentato La qualità dei video Quindi ditemi se E' meglio La qualità è migliore o no Certo ci metto di più A caricarli Però Sti cazzi va bene Che dire ragazzi Mettete tanti mi piace Condividete il video Con le vostre nonne Passate sul mio discord Ditemi quale delle tre macchine Delle quattro Anzi mi piace di più Cioè questo Preset otto E' blu E' giallo E' preset sette Blu E' giallo Ditemi quale piace di più A voi A me A me personalmente Mi piace di più Questo che è bellissimo E questo mi fa impazzire Però ditemi voi Cioè non mi influenzo Quelle volete Bella Ehi